Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli integratori alimentari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano, e commentare con le tue esperienze personali, in base agli integratori date e assunti, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo l'integratore alimentare. Performance. A cosa serve? Performance Amino 2500 ha un integratore appartenente alla categoria degli integratori per lo sport. È commercializzato in Italia dall'azienda Interfarmer Best SRL. Informazioni commerciali. Titolare. Interfarmer Best SRL. Concessionario. Interfarmer Best SRL. Categoria di appartenenza. Integratori per lo sport. Forma farmaceutica. Compressa masticabile. Confezioni. Performance Amino 2500. 300 tavolette. Indicazioni. Utile per la riparazione muscolare e per contribuire alla produzione di energia. Completa l'apporto proteico. Ottimizza il rendimento e sviluppa la massa muscolare magra. Modalità ad uso. Come supplemento alla dieta, si consiglia di assumere fino ad un massimo di 10 tavolette al giorno con acqua, suddivise tra i pasti principali, a seconda delle esigenze nutrizionali. Ideale per integrare un pasto con scarso o insufficiente apporto proteico. Descrizione e caratteristiche. Integratore alimentare è costituito da una miscela di aminoacidi indicati per apportare una quota integrativa di tali nutrienti in presenza di carenze alimentari o di aumentati fa bisogno di proteine e barra o di energia. Pool di aminoacidi utili per la costruzione e la riparazione del tessuto muscolare e per contribuire alla produzione di energia. Utile a complementare l'apporto proteico della razione alimentare quando questo, da solo, non basta ad ottimizzare il bilancio azotato dell'organismo. Raccomandato in tutte le attività fisiche. Ideale per ottimizzare il rendimento e per mantenere e sviluppare la massa muscolare magra. EAA, aminoacidi essenziali, 49%, BKA, aminoacidi ramificati, 22% del totale, 44% degli EAA. A basso tenore di carboidrati. Non apporta grassi. Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo da luce solare e da fonti di calore diretto. Avvertenze. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. In caso di uso prolungato, oltre le 6-8 settimane, ha necessario il parere del medico. Non usare comunque il prodotto in caso di patologia epatica o renale, in gravidanza e al di sotto dei 12 anni, se non dopo aver sentito il parere del medico. Gli integratori non devono essere intesi quali sostituti di una dieta variata. A. È importante seguire una dieta varia ed equilibrata ed uno stile di vita sano con un'attività fisica regolare. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento ci vediamo al prossimo, integratore alimentare esaminato.